Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a fare l'unboxing di un prodotto che potete trovare in vendita su Amazon e che consente di mettere ordine nei nostri armali e soprattutto di risparmiare spazio. Si tratta precisamente di due grucce salva spazio per pantaloni ma non solo. Andiamo prima di tutto a fare l'unboxing così vediamo come si presenta il prodotto quando arriva a destinazione. All'interno c'è un'altra scatola. Il prodotto arriva a destinazione smontato dovremo quindi assemblarlo. All'interno della confezione troviamo un foglietto che ci illustra i passaggi da seguire per il montaggio delle grucce. Troviamo poi due supporti in plastica rigida ognuno dei quali è dotato di due ganci per poter appendere la gruccia all'armadio. troviamo poi dei tubi curvi, 10 in totale, tubi che andranno ad ospitare i nostri pantaloni. I tubi andranno ad essere agganciati a questi piccoli supporti in plastica. e infine si trovano dei rivestimenti in schiuma che andranno a ricoprire i tubi metallici in modo che i pantaloni non scivolino una volta posizionati. Bene procediamo al montaggio. Iniziamo dalla prima gruccia. facendo un po' di pressione i pezzi in plastica devono aderire all'interno della gruccia. Pezzi che poi andranno a supportare i tubi metallici. Prima parte andata, adesso applichiamo i tubi. ecco fatto. Infine andiamo a posizionare i tatti alle estremità dei tubi in modo da non creare danni ai nostri indumenti. fatto, la nostra gruccia è finalmente completa. Come avete visto il montaggio è semplicissimo direi che può eseguirlo anche un bambino. Per adesso ne ho montata una di fronte a voi, l'altra la monterò in seguito. Andiamo a vedere come è composta questa gruccia. Come vedete in alto c'è un supporto in plastica dotato di due ganci che permetteranno di appendere la gruccia all'armadio. La gruccia potrà essere applicata all'interno del nostro armadio in due diverse modalità. In posizione orizzontale oppure in posizione verticale. La posizione orizzontale consentirà di appendere i pantaloni in modo ordinato e di poter estrarre facilmente quello di nostro interesse. La modalità verticale invece si ottiene appendendo all'armadio un solo gancio e ciò permetterà di risparmiare spazio potendo appendere i pantaloni su cinque diversi livelli a poca distanza tra loro. I pantaloni vanno appesi su questi tubi in acciaio inossidabile che sembrano di ottima qualità quindi dovrebbero anche durare nel tempo senza deformarsi. Ogni gruccia è poi ricoperta da un rivestimento in schiuma che consentirà al pantalone di non scivolare una volta adagiato. Quindi anche se i pantaloni dovessero essere in seta o le charter che come sappiamo è un materiale molto scivoloso non dovremo preoccuparcene perché grazie ai rivestimenti dovrebbero stare in modo stabile sulla gruccia. Adesso andiamo a testare il prodotto all'interno dell'armadio così vediamo se svolge bene la sua funzione. Ok ecco qui la nostra gruccia adesso andiamo a fare una prova inserendola in questo armadio che ho appena svuotato. Vado ad appendere la gruccia prima in modalità orizzontale. Ecco qui sta un po sollevata verso l'alto perché ancora non c'è il peso dei pantaloni che la tiene più bassa. Questa è la modalità orizzontale vediamo quella verticale che si ottiene appendendo un solo gancio. Eccola qui. Guardate quanto poco spazio va ad occupare. Adesso la proviamo con i pantaloni ovviamente. Andiamo a testare varie tipologie di pantaloni con diversi tessuti in modo da valutare se scivolano o meno dalla gruccia. Mettiamola prima in posizione orizzontale. Così è più semplice appenderli e iniziamo da questo jeans estivo quindi leggero. E il primo è andato. Pantalone grigio più invernale. Perfetto. Pantalone di tuta. Passiamo ora a un pantalone più scivoloso di quelli più elegantini. Tessuto veramente scivoloso e morbido quindi vediamo. Questa è la prova del 9. Ed infine un altro jeans e arriviamo a quota 5. Ok. I pantaloni sono posizionati tutti. Come vedete estrarli è semplice perché basta tirarli e vengono via. Proviamo la posizione verticale. In questo modo lo spazio occupato è davvero ridottissimo. E potremmo appendere qui tante altre grucce. Ok ragazzi come avete visto il prodotto non è niente male soprattutto nella sua modalità verticale salva spazio. I pantaloni non scivolano e regge bene il peso di 5 pantaloni. Ho inserito sia pantaloni pesanti che leggeri sia scivolosi che meno scivolosi e come avete visto regge bene il peso e i pantaloni non scivolano. Inoltre in dotazione ne escono due io ne ho montata una soltanto ma ce ne sono ben due quindi 10 pantaloni. Ma questa grucce in realtà non si presta ad appendere solo pantaloni infatti si possono appendere anche asciugamani, cravate, sciarpe. E grazie a questi due ganci di dimensioni standard si adatta ad essere appesa nella maggior parte degli armadi. Bene allora se questo prodotto vi interessa troverete il link nella descrizione del video. Il prodotto è acquistabile su Amazon. Io spero che questo video vi sia stato utile. Se così è stato vi invito a lasciare un bel like, ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto attivando la campanella delle notifiche accanto al pulsante iscriviti per non perdere nessun nuovo video che uscirà sul canale. Sul canale trovate unboxing, recensioni e tanti altri video speciali. Bene per il video di oggi è tutto io vi saluto alla prossima. Ciao. 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 Grazie a tutti.